Potrà essere multato chi beve una bottiglia di birra per strada in qualsiasi ora del giorno in tutto il territorio del nostro comune. È destinata a far discutere forse persino più della prima la seconda e definitiva ordinanza che il sindaco di Arezzo ha firmato davanti a categorie economiche ed ASL. È quella che vieta appunto il consumo di alcolici sul suolo pubblico a tutte le ore, allungato l'orario fino alle 2 del mattino per bar e ristoranti e fino alle 3 per le discoteche per la somministrazione nei pubblici esercizi. Diciamo che è stato un modo per prendere in mano una situazione che effettivamente degenerava in tutta la città perché ragazzini che vanno in giro con le bottiglie e poi le spaccano per terra e lasciano in giro, cioè era una cosa che si vedeva. Le associazioni di categoria assieme all'azienda sanitaria hanno anche firmato un codice etico ma il problema del sottocosto esiste e va combattuto con maggiori e severi controlli. Il codice etico è una norma di buonsenso, il sottocosto è un problema perché difficilmente adesso forse difficilmente si va in coma etilico con dei cocktail a 5 o 7 euro a bicchiere, purtroppo si va in coma etilico con i bicchieri a 1 euro a bicchiere. Quindi il sottocosto è assolutamente un argomento centrato per la salute dei nostri figli, per la qualità, per il tasso alcolico, per tutto e questo è un dovere di tutti noi.